Le foto di Jennifer e Davide postate su Facebook solo pochi giorni fa in cui erano insieme felici e sorridenti adesso stridono con la cronaca di un ennesimo femminicidio, fenomeno che proprio Jennifer la settimana scorsa nella giornata contro la violenza sulle donne condannava su Facebook scrivendo che il virus del non uomo la mancanza di virilità che rende l'uomo un bambino disperato. Parole che suonano premonitrici per una storia il cui copione purtroppo è simile a mille altri un litigio alla fine di una storia d'amore che si è trasformato in tragedia. Ed è così che ha perso la vita Jennifer Sterlecchini, 26 anni, uccisa dalle coltellate infertele dall'ex convivente Davide Troilo, 32 anni, titolare di una ditta di manutenzione di ascensori. La ragazza era arrivata nella villetta a due piani di via Quatorbi da quartiere Fontanelle nella tarda mattinata per prendere le ultime cose prima di lasciare l'abitazione. All'interno è scaturita la lite per il possesso di un tablet rivendicato da lui e di un computer reclamato da lei, stando a quanto riferito da Davide Troilo al PM della procura di Pescara titolare dell'inchiesta Silvia Santoro nel corso di un drammatico interrogatorio in ospedale più volte interrotto dal pianto del ragazzo che lucido ma tremante e dignaro della morte dell'ex fidanzata ha raccontato la sua versione dei fatti. I due sarebbero finiti a terra dopo le spinte reciproche. A quel punto la giovane avrebbe preso un coltello ferendosi al collo sostenendo di non farcela più, gesto che sarebbe stato poi emulato dall'ex convivente. Poco dopo la donna, sempre stando al racconto dell'uomo, gli avrebbe sferrato una coltellata all'addome e l'ex compagno per reazione l'avrebbe colpita prima al collo e poi al corpo. A litigio hanno assistito impotenti anche un'amica della ragazza e la madre della vittima che l'avevano accompagnata e che erano rimaste fuori dallo stabile. Sono state proprio le urla disperate della mamma ad allertare i vicini che hanno così chiamato il 112, ma quando i militari sono arrivati insieme ai sanitari del 118 era troppo tardi. Jennifer era già esanime riversa sul pavimento dell'ingresso con Davide agonizzante per le ferite. Il ragazzo poi è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Pescara con ferite guaribili in 15 giorni. Nessuno tra i vicini di casa è riuscito a spiegare tanta ferocia. La coppia infatti è stata descritta come assolutamente normale. Chi conosce Davide racconta di un ragazzo a posto, dedito al lavoro e molto attaccato al figlio avuto da un'altra donna. Gli amici di Jennifer invece la descrivono come una ragazza esuberante ma assolutamente per bene. Sulla vicenda intanto dovrà fare luce l'indagine condotta dai carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Pescara, diretti dal maggiore Massimiliano Di Pietro. Nella villetta hanno già effettuato i primi rilievi gli uomini della scientifica e i militari hanno già sequestrato il cellulare di Troilo. Gli inquirenti cercano un perché a quella che a tutti gli effetti è stata una giornata di ordinaria follia.